50 nuovi posti auto a pagamento alla manifattura. È pronto ad essere riaperto, infatti, il parcheggio interno al piano terreno della struttura, come hanno annunciato gli assessori a traffico, commercio e mobilità Nicola Buchignani, Paola Granucci e Remo Santini. La riapertura del parcheggio è l'avvio di una ricognizione generale sullo stato e sulla distribuzione dei parcheggi del centro storico, per capire dove sia possibile recuperare posti di colore giallo per i residenti o stalli blu a pagamento con parcometro. L'operazione riguarderà tutto il circuito incluso all'interno delle mura urbane e solo alla fine saranno valutati costi e benefici in vista di una proposta complessiva di riorganizzazione dei parcheggi del centro da sottoporre al giudizio e ai suggerimenti dei cittadini e delle categorie economiche.